non se ho visto catarina che la tipo qua scuola meglio l'anello di oro leggiti l'anello di oro e noi vediamo tutti non ride oh cazzo aiuto ma perchè ci vai perchè devo stare devo fare visione e guarda come si fa visione ecco catarina catarina la non c'è un santo qui non vede qua in qua sto di qua perchè c'è no guarda non l'ho visto ti fai prendere come uno scemo non c'è andare non c'è una cosa basta ciccino di merda sono tutti qui tutti qua vengono aia ho fatto con meno vita ma dovete darmi una mano ma siete tutti qui però grazie vale prego prego inizia qua c'è nessuno non ho fatto il milano aia mi cura non ho capito la città sul tiro un po' mano tutta se si o le giue o le giac dimentico se sono percorrata provo di non lo so è troppo mano però poteche o le giac l'hai visto lo visto il tutto guardandolo un secondo pubblico anche in difficoltà ok con la ea calcio stavola abitare conto catarini ma l'ha mai usato caso non lo uso da un secolo ho usato tanto tempo fa e mai mi dice sui naram lo uso tuttavia capire quanto lo so usare mamma è già morto e anche se tappi che è stato tipo metà vita con due colpi non è tanto il pubblico guarda che car appoggiate il mignone ehi sputo dosso il primo amici non cambia pure la enz personaggio quando conquista la doppia bui scusate le pali di fuoco cos'era una cosa jinx un canto se ne va però basta la cesta ascia sta ascia sta aiutami però perché perché sei stupido che ci vai dopo le lucide e ma ci vai non ho capito perché e fa il culetto sta il culetto si è fidata non è fidata quindi per ora non prega niente prossimo ritratelo dico io non ti salvo non non è umana non è più umana non è più umana a me serve sempre di gankare bene guarda che abbiamo avuto il uso parus doveva arrivare dal lato vale vallo a mettere dal lato dalla parte del fiume della foresta scusa da di qua non sono stati in giro noi sono buono buono torre di merda ma dai sputa sputa guarda come dire ho sbagliato tutto devo usarla dopo quando ero morto la reggia palle non sono abituato con cartus che l'ho detto perchè l'ho toccato allora perchè era l'unico che non aveva ancora un livello ok io ulto e tu cerca di uccidere qualcuno che a poca vita nice mamma minchia io volevo che lui li prendesse di sorpresa ma l'effetto di sorpresa molto brutto si ha sorpreso noi eh ma è la prima volta che uso varus cosa vuoi davvero perchè è l'unico appunto insieme grazie perchè sono a dc anche se non lo volevo fare la decimando che vedete anche insieme come non ho preso me che tu sei lì no vado via vado via ho capito non ci morirai non ci morirai mi piace essere mi sei morto per lui uh uh ah volevi entrare ho attivato lo scudo ho attivato ho stato bravo per il target yes vai fai il freccia della morte ti prego flash al Q flash al Q non ho la flash la flash non è no cos'è questo magico magico no magico fisico no devi morirci pure così ah io ci ho sperato di morirci dai top è l'unica che è caduta ma è davanti sì perché erano in due quando siete morti dietro quello che tutti sono oh the flash pula perchè la porta per favore pula 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 pino Mora pula pula il pula ma tamb rep ma prima non scegliere prima non credo che hanno fatto il trago mi fa dovrebbe provare a farlo adesso o merda c'è catarina vivare in un po la ulti fate danni da un'altra punta o il doppio non so come va bene grazie mondo quando servirà o la ultima ok ok o merda un'altra punta un po' non morire per l'acqua non ce la faccio poi si può dobbiamo fare dopo che hai fatto due assisti solo per il tuo studio assist sono cittadini Invece noi c'è. Minchia. C'è una scopassa. Mi ha scritto. Io non ho fatto kill. Si ho fatto. Invece la Caterina. Ok. Andiamo su Caterina. Dai sto andando bene come support. Oh merda scappate. Ok. Oh merda. Guarda quanta gente qui. Arrivo. Oh attenti che sta urtando esatto. All shit. Cos'è? No. Non conosco il timing. Non conosco il timing di quel cosa. Ah ma non c'è la torre noi. Ok. Non abbiamo la torre. Sto un attimo. Ci sono un po' bloccato. No proprio la visione. Oh merda. Ma. Della serie fottico. Vado un attimo a farmi zonia. 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 visita tra ieri poi non solo di c'è tanto anche pure o per me sono tutto oberto come aveva c'è una frittura oberto 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 perché c'è cazzo e va bene uscite cioè non ha scherzato ha fischiato jinks Jinx non ha molta vita, però non lo so Uh, get juked Si ha mangiato Si ha mangiato te e ti ha salvato Ulta, ti prego Questa è tipo petta, sai Facciamo il drago Davo lui che vai top Quella ulti poteva essere La ulti della vita Ma secondo te perché io mi son buttato in mezzo? Io volevo farlo Ma capite il fonte davvero Perché io mi son buttato dentro e facevo E e Q E io speravo che mi uccidessero Così io proprio quando sono morto non possono togliermi la ulti Ulto No Dio santo Vieni qua Giorgio Ha preso Eh ci stavo pensando che io ci vedo in aprile sbagli Porca puttana Preparati a buttare come un cart Adesso devo vedere se sto prendendo Jinx Non vuole mica Viene preso tutti Il Jinx non vuole morire Tutti i muri in questa parte Ma così si fa più Quanti danni magic ci hanno Vieta al 1005 Non si si uccide No vabbè 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 Si piatti Sto contenta Uh vi faccio i nostri soldi facili No vabbè No vabbè Stavo per capire da Kartus posso darti la ceretta Posso darti la ceretta Ah Kartus Magico Kartus Magico 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 Kartus Yes E ulti E ulti E ulti E ulti Sempre più easy Jinx vuole ultare Ah va bene Vole JV in fondo in fondo questa strada Così cosa questo se ha il blu Ah giusto quando Umf Tan Kench ulti fa un segnale tipo suddenesclamativo quindi si vede dov'è Ah, non c'è! Ah, non c'è! Non c'è, non so come faccia questa macchina! Comunque Axel, io ti dico... Ho su un 327 di potere magico, però ho già... Bastante le altre cose per il magico. Ma vogliamo venire con te! Davvero, non hanno difesa magica! Chi? Oh, non è grazie! Oh, c'è una Catarina con poca vita! Io ci vado, eh! Si scappa... Non scappa un cazzo! E' arrivata! E' arrivata che ce l'ho! Tra un minuto! E' in più non è che ti fanno in fisica! Ci sei! Ci sei! Andiamo! Ciuf! 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 No, io muoio, mi sa! Oh, cacca! Oh, mio Dio! Col bastardo di danca... Wow! Ok, no, vado via! Moriteci tutti! Eeeh, 14! Ho fatto due kill, nice! Benissimo! Aiuto! Come la puoi! C'è Axel, la differenza tra meta è che io ho fatto una kill e un assist in più, però alla fine ci moriamo entrambi! Io perché devo fare kill quando sono morto e tu perché... Io te le rubo tutte in realtà, eh! Eh? Io te le rubo tutte perché tu le lascia poco e io riesco a sempre tipo... le inseguo e le riesco a prendere! Eh, ho visto! Anche adesso Jinzo ho dovuto flashare per prendere la prova che mi sono fatta! Anche Tahm Kenci è rimasto poco e non mi sono fatta! Manu, per resistenza magica quale usi? Eeeh... Medaglione? No, eeeh... Oddio non mi ricordo come si chiama! Oh! 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 Pensavo di flashare e farci! Questa qui vuol tornare indietro! Uccidetele, vi prego! E' un assist! L'assist! Ok, posta! Fuo! Ho usato l'ignite perché ma è che quella scappa fuori! Mi sa che lo stupo! Ho fatto bene! Centrale! Mi faccio... Stronzo! Mi faccio... Ti fai stronzo? Eeeh... Lo static magari! O il danzatore? No, è il danzatore! E' il danzatore! E' il danzatore! Vaffa! Venite qua! Sto arrivando ma... Uh, bella ult! No, dovevi prendere l'altra strada! Ciao! Io vado via! Ciao Vale! Minchia! Eh... Io ho anche la ultima in caso! No, devo restare anche se dovrei andare a comprare per essere... Più forte! Ma cosa fa? Stappa questo! L'ho presa! Ma quanta roba lì! Ce la fai resistere un... Pochi secondi, devo solo comprare un oggetto! Sì! 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 Tanto te c'è la velocità, vero? Sì! Ok! Uh! Guarda! Up top è boh! Di mid! Lasciamela! 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 Io non lo sto seguendo! Non lo voglio seguire! Katarina! Io ho Zonia, ulti... Flash, se serve... Ho tutto! Come non la faccio? No! E quindi? Uh! Ci manca Mendo! Vengono! Sto farmando intanto che non so che cazzo stiamo facendo, quindi... Cos'è? È il mio post, il mio drink, però... Fa vedere le... le ward invisibili... Guardate, guardate! Uh! Ma cazzo! Uh! Ma cazzo! Uh! Non ci arrivo mai insieme! Dovete ingaggiare? Ah! Vorrei! Ah! Ok! Io mi lancio in... Ok! Io mi lancio addosso da te! Come fai? Questo mi incazzo! Ok! V! 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 Oh merda! Ho tancato una... Un ulti di Jinx, ovviamente! Non lo so! Uh! Oh! Cule muore da te! Noice! Proice! Noice! 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 Sei nati morto con il cartuch! Noice! C'è nati morto con il cartuch! Noice! Vivo! E dico si è andartene perché! Tu ci muori! Un culo tanto! Oh! Cos'hai fatto? io non posso avvicinare io non sono facciamo un pazzo benissimo ha fatto nice sto tankando io posso tankare fino a fine questo perché è forte cartus muore e uccide che cazzo riusciamo anche top top che cazzo vuoi fare? vieni top bravo oh merda ok andiamo via abbiamo fatto correte corriamo corriamo oh top riesco ad andare così bene con cartus non ci credo cioè non è possibile io sono rilassato solo che arriva via aiuto c'è via oh mio dio tambor foschi aiutaci che cazzo vuoi fare adesso usciamo pagliaccio eh eh oh merkel che cazzo vuole fare per questo? andiamo a fare il oh l'ho presa l'ho presa come non l'ho presa? ha saltato ehi chiamo il baron 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 ho la ulti tra 15 secondi perciò finchè lo iniziamo è tutto anche se ci muoio ce l'ho è un snowboard andiamo arrivano stanno arrivando facciamolo in fretta bloccato Katarina noi supris aiuto ok sto lagando prego sto lagando troppo bello ci sono ci sono ci sono ci sono io vado in dopo finitela bilancio bilancio basta questo è il mio lavoro io sto qui non so di te mamma mia sterda easy facca puttana forse abbiamo fatto male ha ucciso Giggs dovete solo vediamo non dobbiamo stare sui vicini tutto quello del problema dopo 100 ho fatto un macello prima adesso ci sto andando back a comprare il mio c'è il drago tra 20 secondi no? cazzo vado guarda quale pusha guarda quale pusha andiamo andiamo ti accompagnisco fatto io volo te quando volete? quando c'è? non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ecco uno e partiamo lo ando anch'io adesso c'è il bagno ma di questa della persona ecco se riedi ok quindi è più grande sono arrivando sono arrivando via non c'è 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 Oh, ovatissima. Isatevego! Isatevego! And now we defeat realm Jakub! Many of them! Chi 안 OM? we have u2d than Kuyo è incazzato perché non ha vinto non ha voluto quello che desiderava mangiare mangio sempre